Nella vostra vita c'è stata una vicenda romanzesca, un episodio curioso o interessante? Fatene un breve racconto, la trama più bella potrà diventare l'argomento di un film di grande successo. Che idea stravagante! Un concorso che raccoglie le storie della nostra vita. Magari è vero che nella vita di ognuna di noi c'è qualcosa che merita di essere raccontato.